E giallo sulla morte di Edoardo Granato, il pizzaiolo di 28 anni trovato morto a gennaio del 2023 nell'androne di un edificio di via Duomo a Napoli, 13 mesi dopo il ritrovamento del cadavere, ci sono le foto dell'autopsia che alimentano non pochi dubbi sull'ipotesi di suicidio paventata all'indomani del ritrovamento di Edoardo. Tra i reperti fotografati spunta una pashmina trovata pochi centimetri dal corpo del ragazzo che sarebbe volato dal quarto piano dell'edificio. Di chi è quella sciarpa? Per i parenti e per Ilaria, la ragazza che conviveva con il pizzaiolo, non ci sono dubbi, mai visto quell'indumento non era un capo che indossava Edoardo. Ad alimentare i dubbi anche le dita delle mani, guardando attentamente le foto si scoprono tracce di polvere che rimandano al parapetto del secondo o del quarto piano, come se Edoardo, prima di cadere giù, avesse tentato di aggrapparsi alla ringhiera. Era il 25 gennaio del 2023 quando venne trovato il corpo del ragazzo nell'androne di un palazzo in cui non aveva alcun contatto. Quella notte Edoardo aveva cenato con due amici, poi venne accompagnato a casa nei pressi di Piazza Trieste e Trento, ma una volta rimasto solo decise di andare in giro nella notte napoletana. Sarebbe arrivato da solo a piedi all'interno del civico di Via Duomo ed è qui che la storia si tinge di giallo. Sono tanti gli interrogativi, ma i parenti sono certi. Edoardo non si è tolto la vita.